esperienza perché questo libro vuol dire tanto per me, raccontato in maniera diversa però sempre raccontando la mia infanzia e tutto il percorso che ho fatto finché sono arrivato qui. Grazie per la vostra presenza, sempre numerosi, prima ho chiesto come stiamo siamo credo che tutti ancora entusiasti di quello che è successo con la nostra Inter, siamo felicissimi e credo che questo sia una cosa che per tutti noi interisti è molto importante per il sentimento che abbiamo nei confronti del nostro club.